Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido finché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te. A deporre hai in tuoi piedi il mio volere. voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione completa e riconoscerti per tutti che il mio Signore è il mio Signore. Mio Dio ti dono il mio volere. Mio Re, Dio mi regno del Fiel Supremo. Mio Dio ti dono il mio volere. Mio Re, Dio mi regno del Fiel Supremo. Mio Dio ti dono il mio volere. Mio Dio ti dono il mio volere. Mio Dio assoluta che devono uscire gli scritti. L'opera della redenzione ed il regno del Fiat divino sono collegati insieme. Il campo del volere divino, spiegazioni. Mi sentivo tutta impensierita per questi benedetti scritti. Il pensiero di uscirli fuori è sempre un tormento per me e poi i tanti incidenti che si danno, ora di un modo, ora di un altro. Molte volte mi fa pensare che forse non è volontà di Dio che si pubblicano, altrimenti non succedevano tante cose. Chissà che il Signore non vuole il mio sacrificio in parole, ma coi fatti vuole risparmiarmi un tanto dolore, perché solo il pensiero di oppormi al suo volere divino mi fa dire Fiat, Fiat. Ma mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto, figlia mia, la volontà di Dio che vengano alla luce degli scritti della mia divina volontà è assoluta e per quanti incidenti si possano dare, essa trionferà di tutto. Ed ancorché passassero anni ed anni, saprà disporre tutto perché la sua assoluta volontà venga compiuta. Il tempo quando verranno alla luce è relativo e condizionato a quando si dispongono le creature a ricevere un tanto bene e a quelli che si devono occupare di farne i banditori e di farne il sacrificio per portare la nuova era di pace, il nuovo sole che nebbierà tutte le nubi dei mali. Se tu sapessi quante grazie e lumi tengo preparati sopra coloro che vedo disposti ad occuparsene. Saranno loro i primi a sentire il balsamo, la luce, la vita del mio Fiat. Guardami come tengo preparato nelle mie mani le vesti, il cibo, i freggi, i doni per chi deve occuparsene. Ma sto guardando chi sono i veri disposti per poterli investire delle prerogative che ci vogliono per un'opera così santa, che io tanto amo e che voglio che facciano. Ma devo dirti pure che guai a chi si oppone o potesse mettere ostacoli. Tu però non spostare nulla, neppure una virgola, di ciò che ci vuole per preparare il regno della mia volontà divina, affinché da parte mia e da parte tua, facendo ciò che ci vuole per dare questo gran bene alle creature, nulla manchi da parte nostra, affinché non appena le creature si dispongano possano trovare tutto a posto e ciò che ci vuole. Non feci io lo stesso nell'opera della redenzione? Preparai tutto, feci e soffri tutto. E ad onta di tanti incidenti contrari che vedevo, gli stessi miei apostoli vacillanti, dubbiosi, timidi, fino a fuggirsene da me, non appena mi videro in mano dei nemici, lasciato solo, non ebbi il bene di vedere nessun frutto mentre io stavo sulla terra, ma con tutto ciò non lasciai nulla di ciò che ci voleva per l'opera completa della redenzione. Finché quando avrebbero aperto gli occhi per guardare ciò che fece, avrebbero trovato tutto il bene per essere redenti e nulla gli mancasse per ricevere il frutto della mia venuta sulla terra. Figlia mia, il regno della mia redenzione e quello della mia volontà sono tanto collegati insieme che si danno la mano e quasi subiscono la stessa sorte da parte dell'ingratitudine umana. Ma non bisogna badarci, né arrestarsi da parte di chi deve dare e formare un tanto bene. È necessario che facciamo opere compiute affinché da parte nostra nulla manchi e quindi disponendosi loro trovino tutto ciò che ci vuole per ricevere il regno della mia volontà. Dopo di ciò seguivo i miei atti nel divin volere, ma continuavo a sentirmi oppressa ed il mio dolce Gesù, ritornando a farsi vedere, pareva che stringeva nelle sue braccia tre o quattro sacerdoti e tenendoli sul suo petto come se loro volesse infondere la vita del suo cuore divino mi ha detto figlia mia guarda come tengo stretto fra le mie braccia coloro che devono occuparsi degli scritti sulla mia adorabile volontà. Come vedo in essi qualche piccola disposizione di occuparsene, io me li prendo fra le mie braccia per infondere in loro ciò che ci vuole per un'opera così santa. Perciò coraggio, non temere. Onde dopo di ciò si faceva vedere nel mio interno, io vedevo nel fondo di esso un campo larghissimo ma non di terra ma di cristallo tersissimo. Ogni due o tre passi di questo campo stava il bambino Gesù circondato da una luce. Oh come sembrava bello questo campo con tanti bambinelli, ognuno dei quali teneva il suo sole, fulgito e bello tutto suo proprio. Io ero meravigliata nel vedere tanti Gesù nel fondo dell'anima mia, tutto intento ognuno dei quali a godersi il suo sole. Ed il mio dolce Gesù vedendo la mia meraviglia mi ha detto Figlia mia, non ti meravigliare, questo campo che tu vedi è la mia divina volontà e di tanti Gesù che vedi sono le mie verità che riguardano il mio fiat. In ciascuna di esse c'è una mia vita, la quale formando il suo fulgito sole si circonda di luce per spandere i suoi interminabili raggi, per far conoscere che sono io la fonte che sorge delle mie verità. Vedi dunque quante mie vite ho messo fuori, per quante verità ti ho manifestato. Sono vite mie che ho messo fuori con la sorgente del sole, non semplice luce, e mi sono rimasto nel mezzo di esse per fare che tutti sentissero la forza, la virtù creatrice in queste verità. E le amo tanto, ciascuna di esse, quanto amo a me stesso. E chi non vorrebbe riconoscere la mia vita, il mio sole, la mia virtù creatrice in questa verità sul mio fiat, o è cieco, oppure ha perduto il bene dell'intelletto. Come pure ti dovrebbe essere di gran consolazione che possiedi in te tante vite per quante verità ti ho manifestato. Perciò riconosci il gran bene, tesoro più grande non poteva affidarti, non ti impensierire, il sole saprà fare la sua via, e siccome è luce, nessuno potrà impedirgli il passo. Passo aggiunto con un accento più tenero. Figlia mia, la nostra maestra adorabile, ama tanto la creatura che mettiamo a sua disposizione nella nostra vita, per farne un altro simile a noi. Mettiamo la nostra vita come un modello innanzi alla creatura, affinché modellandosi sul nostro copia la nostra vita in forma di facsimili col suo creatore. Perciò usiamo tanti stratagemmi, finezze d'amore, diamo grazie sorprendenti per vederci copiati nella creatura. E allora saremmo contenti, quando il nostro amore, unito con la nostra divina volontà, vincendo la creatura, potrà riconoscere in essa la nostra immagine e somiglianza, quale uscì dalle nostre mani creatrici. Bene, su questo brano abbiamo l'occasione, oltre che di riflettere, evidentemente su alcune cose molto importanti, quale è l'importanza degli scritti, della loro diffusione, anzitutto, ma non solo, di coloro che devono occuparsene, e che abbiamo poi anche in questa conclusione che ci ricorda il fine ultimo di queste rivelazioni, di questa vita. Dio vuole, come dire, veramente, questo lo sappiamo che già per l'inabitazione della grazia battesimale è una vocazione di tutti, però vuole realizzare il progetto di modellare le creature a perfetta immagine del creatore, quindi copiando addirittura la vita della Santissima Trinità e formando dei facsimidi, come Gesù li chiama. Noi se ne abbiamo uno che è perfettissimo, è il più somigliante a quello che mai, insomma, sarà eguagliato. La Madonna è specchio terzissimo di ciò che la divinità è, è una creatura, ma ha talmente proprio perfettamente vissuto questa cosa che è tutta quanta divinizzata. La Madonna è tutta divina, per questo che San Luigi Maria Manforto la chiamava la Divina Maria, non la Dea Maria, la Divina, per far capire che era completamente divinizzata. Un canto la chiama l'irraggiungibile e dice molto bene perché a quelle altezze non ci può arrivare nessuno, no? Però comunque il progetto di Dio, che come qui spiegano in un passaggio Gesù, è già radicato nella redenzione, perché la redenzione è stata quella grande operazione divina tesa alla distruzione del male e anche delle sue conseguenze prodotte in noi. E quindi la ripresa della possibilità per l'uomo, altrimenti di riavere la grazia, quindi di camminare verso la santità, in vista appunto del fine ultimo che è il ripristino dell'ordine della creazione che si compirà col sospirato regno della Divina Volontà, che abbiamo buoni motivi per sperare, oltre che per ragionevolmente pensare, che possa venire al termine di questa tribolazione che stiamo vivendo ormai palesemente in questi nostri tempi e che si concluderà con il trionfo del cuore immacolato di Maria, come la Madonna ha profetizzato a Fatima e questo trionfo del cuore immacolato di Maria, certamente, almeno per quanto mi riguarda, quindi è un'espressione di un'opinione soggettiva, quindi non è che dico che certamente deve essere per forza così, ma per quanto mi riguarda ne sono persuaso, avrà a che fare con il regno della Divina Volontà, o meglio saranno due facce della stessa medaglia. Il cuore immacolato di Maria non può desiderare nient'altro che le creature vivano la sua stessa vita, condividendone il più possibile le gioie, le grazie e gli effetti. Bene, detto questo, siamo partiti dalla fine, torniamo un pochino indietro e attenzione, ci sono alcune cose veramente molto importanti da trattenere, da ritenere per noi nella nostra meditazione, quindi nella nostra vita, nella prima parte della meditazione. Allora, numero uno, Luisa vede degli ostacoli, degli incidenti, delle difficoltà nel realizzare ciò che ella ha sentito da Gesù stesso, essere sua volontà. E dice, ma non sarà che io non, forse non è volontà di Dio che realizziamo queste cose, che pubblichiamo questi scritti? Troppe difficoltà. La risposta di Gesù è no. Ora, il fatto che in un'operazione, qui ci vuole sempre discernimento, ci siano delle difficoltà, non è di per sé, come dire, prova evidente che quella cosa non è volontà di Dio. Anzi, perché nelle opere di Dio ci si mette sempre di traverso il diavolo, sempre. Quindi, la contraddizione, l'ostacolo, non solo che non è segno che quella cosa non è volontà di Dio, ma generalmente è proprio segno che quella cosa è volontà di Dio. Perché se va tutto liscio, vuol dire che chi ha qualche problema con le opere di Dio, e purtroppo sulla terra c'è tanto potere, che è il diavolo, non c'è nessun problema ad ostacolarla. E quindi, vuol dire che quella cosa a lui particolarmente male non gli fa. e quindi c'è da dubitare che sia volontà di Dio. Quindi, attenzione che è tutto il contrario. Chi andrà a messa oggi, oggi c'è un Vangelo che mi piacerebbe tanto sentire, insomma. C'è il Vangelo quando Gesù dice io sono venuto a portare la divisione, non la pace. Qualcuno si scandalizza. Ci fa come Gesù è venuto a portare la divisione. E a mettere gli uni contro gli altri. Nel Vangelo di oggi sono parole di Gesù. E c'è chi si scandalizza. Ah, no, 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 questa cosa sta portando la divisione, quindi qui non c'è la volontà di Dio. Siamo proprio sicuri che sia così. Siamo proprio sicuri. È chiaro, questo Vangelo va spiegato, io lo farò durante l'Omelia. Non è che il Signore ha intenzione di portare nessuna divisione, quindi non è che gode del fatto che ci siano le divisioni, d'accordo? Perché la carità e la comunione ordinariamente appunto suppongono l'unità. Però che succede? Che è inevitabile, perché siccome non siamo tutti quanti santi, quando c'è un volere di Dio difficile, per esempio, difficile da discernere, difficile da mettere in pratica, avverrai quante divisioni che ci stanno. Tantantantissime ce ne staranno. E già ci si dividerà nel pensare, perché alcuni penseranno che fare una cosa è volontà di Dio, altri penseranno che è il suo contrario. E il problema è che di questi due, uno ha ragione, perché non è possibile che una cosa Dio la voglia e voglia il suo contrario. Ma questo non deve stupirci. C'è qualcuno che scandalizza, dice no, mamma mia, ma che ti scandalizzi? Quindi le cose di Dio non nascono senza dolore, non si compiono senza la contraddizione, senza il sigillo della croce. Ah, poi certamente i collaboratori del diavolo guai a loro, dice Gesù, guai a chi si oppone o mette ostacoli, per carità. Ma noi sappiamo, e la Divina Volontà non fa eccezione a questo. Attenzione, perché non è che una persona, se si mette vicino alla Divina Volontà, sì, negli scritti c'è scritto, quando la Divina Volontà raggiunge la sua pienezza nell'anima, il diavolo non può fare nulla di rilevante contro quell'anima. A parte che questo ci vuole, insomma, un livello non indifferente, ma anche Gesù e la Madonna, però, dal diavolo sono stati tentati, lo dice il Vangelo, lo dice Don Leonardo, insomma, no? Quindi, il fatto che il diavolo non possa fare nulla, d'accordo, nel senso che non può espugnare, infatti Gesù e la Madonna non hanno mai peccato, non hanno mai ceduto alla tentazione del diavolo, ma sono stati tentati, però. Altrimenti, in questo mondo c'è il principe di questo mondo, noi non possiamo non fare i conti con il principe di questo mondo. C'è da sperare che, dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria, anche i passaggi simbolici del libro dell'Apocalisse, sia messo in catene per un qualche periodo, quindi che si è allentata un po' sta morsa che adesso ci ha proprio appestato, ci ha proprio strozzato, insomma, no? Deve respirare un po', chi ci arriverà, chi lo vedrà, però lui c'è, quindi c'è niente da fare. E quindi Gesù dice, stai attento, ci stanno queste difficoltà, ma questa è mia, non solo che è mia volontà, è volontà assoluta. Attenzione, che cosa significa? Significa che il fatto che una cosa sia volontà assoluta non significa che non ci siano difficoltà e problemi, e non solo. I tempi della pubblicazione sono condizionati, dice Gesù, questo è un altro aspetto molto importante, molto importante, a quanto si dispongono le creature a ricevere un tanto bene e a quelli che se ne devono occupare. Quindi, i progetti di Dio, le volontà di Dio, come dire, sono condizionate, numero uno, dalle opposizioni create dal mondo del male, sia quello soprannaturale, cioè i diavoli, sia i loro collaboratori, coscienti o incoscienti in forma umana. Poi ci sono anche dei problemi di tempi, che Dio condiziona a varie situazioni. Questo noi lo dobbiamo ricordare, anche per comprendere sapienzialmente quello che accade intorno a noi, e a volte anche quello che accade dentro di noi. è importante, cioè non avere la volontà di Dio, attenzione, è potentissima, nulla gli si può opporre, però noi capiamo, no? Dobbiamo sempre essere consapevoli di queste cose. Noi sappiamo, se Dio volesse, per esempio, metterebbe fine a questo mondo di novelli atei, istantaneamente. Gli basta un cenno della sua volontà. Gli basta veramente un cenno della sua volontà. Lo ha fatto fino a oggi? No. Perché non dobbiamo mai dimenticare che la volontà di Dio può tutto ciò che vuole. Questa è una frase da ricordare. Ma non vuole tutto ciò che può. Ci potrebbe farlo questa cosa al Signore? Sì. La sta facendo? No. Quindi che significa? Significa che non vuole. Potrebbe liberarci il Signore da tutte quante queste prove seduta a stante, subito, immediatamente? Certo che potrebbe farlo, ma non lo fa. bisogna assolutamente tenere presente tutte quante queste dinamiche quando si ha a che fare appunto con la volontà di Dio. c'è un altro punto decisamente importante anzi proprio fondamentale nella nostra meditazione odierna ed è il seguente. Più avanti il Signore fa riferimento il Signore fa riferimento ai collegamenti sussistenti tra l'opera della redenzione e il regno della Divina Volontà. si tratta di due operazioni distinte operate dalla Divina Volontà quindi dalla Santissima Trinità ma che sono legate e collegate l'una con l'altra. Quindi Gesù fa riferimento per esempio ai tanti ostacoli alle tante vicissitudine che incontrò il compimento dell'opera della redenzione e paragona queste vicissitudine e questi ostacoli a ciò che accade con il regno della Divina Volontà. Quindi nessuno stupore proseguendo sul tema fa notare il Signore a Luisa se anche la diffusione della Divina Volontà incontra ostacoli. Questo non è altro che il ribadire in maniera abbastanza chiara di non preoccuparsi dinanzi alle difficoltà trovate per la diffusione e la pubblicazione degli iscritti. Questi sono punti capitali su cui far convergere l'attenzione. bene, adesso c'è un ultimo aspetto su cui sarebbe bene portare l'attenzione. L'ultimo aspetto su cui è importante meditare riguarda la diffusione degli iscritti. è l'immagine è l'immagine con cui Gesù stesso si presenta dinanzi a Luisa. Possiamo rileggere. dice Gesù torna a farsi vedere e pareva che stringeva nelle sue braccia tre o quattro sacerdoti e tenendoli sul suo petto mi ha detto sono tre o quattro questi sacerdoti spero che siano diventati un pochino di più cioè che questo numero sia un numero come dire un po' come dire simbolico in quanto tra le braccia più di tre o quattro non ce ne entrano tutti insieme spero che siano un pochino di più non so sinceramente in quanti sacerdoti adesso si stanno occupando degli iscritti io ne conosco qualcuno insomma un po' più di tre o quattro ce ne saranno presumibilmente anche altri però la cosa da notare e non è l'unico punto degli iscritti dove il Signore lo sottolinea è che si tratta di tre o quattro sacerdoti tante volte Gesù spiega in questi iscritti che l'opera della loro diffusione della loro spiegazione di occuparsi di occuparsi della dina volontà è compito sacerdotale il motivo è abbastanza evidente cioè il nostro Signore è intelligente evidentemente non solo rispetto all'ordine che lui stesso ha creato nella Chiesa chi ha il compito istituzionale della predicazione sono i sacerdoti e ancora più dei sacerdoti evidentemente per la pienezza del sacerdozio che hanno i vescovi uno due un sacerdote in forza del Ministero Sacro che ha ricevuto ha anche una certa come dire autorevolezza oltre che autorità oggettiva diverso se una cosa la dice un sacerdote o se una cosa la dice un laico per carità un laico un battezzato c'è la dignità di figlio di Dio ha la possibilità di testimoniare la sua fede ha la possibilità di partecipare anche all'opera evangelizzatrice della Chiesa insomma però lo fa nelle forme e nei gradi suoi propri l'altra cosa importante a mio avviso Gesù stesso spiega quanti aiuti quante grazie quante benedizioni quante cose ha preparato per coloro che devono occuparsi di questa cosa certamente però per occuparsi di questa cosa ci vogliono anche delle attrezzature di base tante volte ho fatto notare alcuni concetti che sono un pochino effettivamente ostici non si possono comprendere se almeno un pochino di teologia non si conosce un'altra cosa molto importante il raccorso cioè il rapporto che hanno questi scritti con la rivelazione e con l'opera della salvezza deve essere spiegato deve essere cioè questi non sono quando io ritengo che quando questi scritti saranno riconosciuti arriverà quello arriverà anche questo nella Chiesa rinnovata penso di sì io non credo che l'approvazione degli scritti sia una cosa che possa venire a breve insomma questa è un'altra mia opinione soggettiva e personale non ci sono le condizioni a mio avviso adesso proprio oggettive per un processo di questo genere adesso circolano come stanno circolando quindi circolano in forma come dire tra virgolette possiamo chiamarla privata quindi senza nessun riconoscimento pubblico da parte ufficiale da parte dell'autorità e fanno il bene che devono fare in questa modalità è sempre successo così anche in tutte e quante le cose poi verrà l'ora però nel frattempo cioè chi parla di queste cose deve far vedere come gli scritti siano perfettamente coerenti con tutto quanto il mistero della liberazione non solo siano strettamente collegati a la sacra scrittura ricordiamo la meditazione di ieri quanti riferimenti che ho fatto no ma anche stamattina quando Gesù dice guarda che le mie opere sono sono contrastate però nonostante i contrasti vanno avanti lo stesso questo Gesù lo spiega nel Vangelo qui lo sta ribadendo ma Gesù lo spiega nel Vangelo e invita anche a non scandalizzarsi che le sue opere siano e poi tu ti meravigli che che quest'opera sia contrastata dicevo prima per chi sta seguendo la diretta purtroppo c'è stato un blackout nel tempo in cui non si è sentito stavo considerando qualcosa sul passaggio in cui Gesù instaura spiega il rapporto tra la redenzione e il regno della dina volontà dice ma c'è stata un'opera forse più ostacolata e più difficile della redenzione dice io poi ho fatto tutto però gli apostoli erano ancora vacillanti dubbiosi timidi sono fuggiti mi hanno lasciato solo ecco anche esortando Luisa in relazione alle possibili difficoltà che si possono trovare noi facciamo quello che dobbiamo fare quello che non dipende da noi lo mettiamo nelle mani di Dio se ci saranno gli ostacoli insormontabili quelli se ne deve occupare il nostro Signore ci staranno nemici che si mettono di traverso questi passeranno in guia con la divina giustizia noi dobbiamo fare quello che sta in noi pensiamo anche ad un'applicazione personale di queste cose no? noi molte volte vorremmo risolvere chissà quali e quanti problemi personali familiari professionali sociali ecclesiali molti problemi non si possono risolvere che cosa possiamo fare? tutto quello che sta al nostro potere questo sì quel piccolo che noi possiamo fare quel piccolo contributo che non risolverà il problema d'accordo ma noi abbiamo fatto la nostra parte in termini di preghiera in termini di sacrifici in termini di bene concretamente possibile nelle circostanze in cui ci troviamo a vivere e ad operare basta dopo non occorre altro non bisogna preoccuparsi ma non serve a niente tanto questa qui è una piccola voce nell'oceano tu non ti preoccupare fai quello che spetta a te e lascia che Dio si occupi di quello che tu non hai la possibilità di fare lui dice che doveva fare doveva scrivere d'accordo e mettere gli iscritti in mano a qualcuno che può desecurare una pubblicazione basta e poi pregarci sopra il resto spetta a chi ha avuto questo incarico spetta a chi deve farli circolare a chi deve stampare a chi deve preoccupare tu fai quello che devi fare tu vedi gli ostacoli non ti preoccupare perché gli ostacoli sono perfettamente normali nelle operazioni però attenzione i riferimenti sono i sacerdoti proprio per queste motivazioni quindi il fatto che questa cosa dovrà diventare una cosa questa deve diventare una cosa non potrà rimanere io non credo che il regno della Dina Volontà arriverà questo altro mio opinione soggettiva manco troppo se questi iscritti come in una visione che compare negli iscritti non entreranno dentro tra le altre sfere della gerarchia ci gireranno intorno e gli daranno la benedizione questo deve diventare patrimonio della chiesa questo qui non c'è niente da fare e se questa cosa non diventa io dubito che possa venire il regno della Dina Volontà adesso circolano già qualcosa insomma però dovrà venire deve nascere sarà un papa non lo so deve nascere qualcuno che dica queste cose sono una benedizione del cielo ovviamente sono distinte dalla rivelazione pubblica non entreranno mai a far parte della rivelazione pubblica per nessun motivo d'accordo però ne rappresentano un'esplicitazione quindi adesso siamo in grado di capire bene che diceva Gesù con il padre nostro che sta nel Vangelo e ce l'ha insegnato lui quindi che abbiano la benedizione d'accordo e allora sì però questo è un passaggio successivo noi non dobbiamo preoccuparci neanche neanche noi che cosa possiamo fare noi adesso nessuno di noi fa il papa che credo non lo so se il papa senta o non credo che senta queste meditazioni ne crede senta qualche cardinale o qualche vescovo quindi io faccio il povero prete gli altri facciamo i poveri cristiani e facciamo quello che possiamo fare per andare avanti in questo il resto lo affidiamo alla divina bontà grazie a tutti grazie a tutti ti ringraziamo signore Gesù anche oggi per queste verità che hai sottoposto alla nostra attenzione per le cose importanti che anche oggi ci hai trasmesso il compimento della tua volontà quando questa è determinata ma il fatto che ciò non significa che non si incontrino difficoltà ostacoli opposizioni e che non ci vogliano i tempi dipendenti da alcune nostre condizioni ma anche quelli che tu hai stabilito molto importante che noi ricordiamo tutte queste cose che preghiamo che sempre un maggior numero di sacerdoti entri in contatto con questi scritti ne comprenda la bellezza e dia il proprio apporto il proprio contributo per diffondere questa opera per difenderla per consegnarla in maniera il più possibile corretta perché per fare in modo che purtroppo le interpretazioni forvianti non vanifichino il bene che può apportare mettiamo tutte quante queste cose nella nostra preghiera rinnovando il nostro grazie ringraziando anche la Madonna che come sempre ci accompagnano in questa meditazione e invocando su tutti e su ciascuno la santa benedizione nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti.